Sono le 5 e 12 del mattino di oggi giorno 11 luglio 2023 Sull'Italia, sul centro Italia, insiste sul centro meridione, insiste una zona di alta pressione E quindi il cielo è totalmente sereno, anzi, rettifico, dovrebbe esserlo Noterete, vi punto il dito Lì isernia, puntando il dito purtroppo metto fuori fuoco lo smartphone Ripeto, su tutta l'Italia il cielo è sereno, totalmente sereno, su tutta l'Italia Ok, guardate, lì Lì non è così, vedete? Vediamo un po' se riesco a mettere fuoco Ecco qua, allora, io sto parlando di ciò che sta in alto State vedendo in alto Ovviamente questa è l'aurora La vedete l'aurora? L'aurora viene prima dell'alba Perché l'alba è alle ore 5 e 40 L'alba Ci siamo? L'alba è alle ore 5 e 40 Questa è l'aurora Il cielo è sereno Su tutto il centro meridione d'Italia O almeno dovrebbe esserlo Quella invece è l'aurora Ci siamo? Io poi rimango qui Perché poi Quello che vedete al momento Poi a un certo punto Come per magia scompare Ora che faccio? Nel mentre aspettiamo Che come per magia Quello che vi sto facendo vedere scompare Ripeto Facciamo un attimo Una disamina All'orizzonte della concavena frana Quello è il nord Monte Santa Croce Quello è l'est Il Matese Quello è il sud Monte Cesima E quello l'ovest Monte San Bucaro Ci siamo? Facciamo appunto Una scorsa Dell'intero orizzonte Vedete che è tutto sereno? Perfetto Torniamo a noi Dicevo Qui Dentro Venafro Qualcuno Ha Acceso della sterpaglia Evidentemente Cerco di allargare Sempre che ci riesca Vedete Dentro Venafro Quello È fumo Quello lì è fumo Non è vapore acqueo Su questo non ci piove Giusto? Perfetto Ripeto Qualcuno sta incendiando Sta incenerendo Sterpaglia Dentro Venafro Più o meno A quale altezza? È proprio al centro Al centro di Venafro Al centro di Venafro Ok Ma ciò che mi incuriosisce E che voglio appunto E che voglio proporvi È come quel fumo Si sta dipanando Si sta dipanando Nella concavena frana State vedendo Come si sta dipanando Ma quello non è vapore acqueo No no Quello non è vapore acqueo Quello è fumo Guardate un po' Mi avvicino Per farvi rendere Al meglio Quanto sto Riprendendo Avete visto Che cosa ha fatto Quel signore lì Che qui sta incendiando Al centro di Venafro Sterpaglia Avete visto il fumo Come si sta dipanando Come si sta diffondendo Guardate Come si sol dire Capita proprio a fagiolo State vedendo E quello Non è vapore acqueo Attenzione Quello è fumo A posto Fatto questo Ovviamente poi Penso che abbia iniziato A incenerire Sterpaglia Una mezz'oretta fa Quindi Ovviamente Quel fumo Che fa? E si diffonde No? O no? Tra un po' Anche quel fumo Vedrete che non ci sarà più Sarà evanescente Anzi A proposito Mi stavo dimenticando Ritorniamo un attimino Sull'aurora No? Perché È opportuno Farvi vedere Come Nel cielo Arancione Dipinto D'arancione C'è quella canzone Che dice Nel cielo Dipinto Di blu No no Questa volta Arancione Perché questa è L'aurora Vi faccio vedere Come Sta cambiando Quel cielo Avviciniamoci Avviciniamoci Così ve lo rendo meglio Ripeto Sul centro meridione D'Italia Insiste Una zona Di alta Altissima Pressione Tale per cui Il cielo È totalmente sereno Prima che ho fatto La scorsa Di tutto L'orizzonte Di questa Concavena Frana Ok Vabbè Rimaniamo qui Un altro po' A me piace fare Le riprese Di presto mattino Non so perché Come nel mese Di agosto Del 2017 Quando Di sopra Salto Alle due e mezzo Del mattino Mi dovetti svegliare Perché Con i balconi Aperti di casa Dentro casa Non si riusciva A respirare Per l'odore acre Che ci Persisteva E allora Siccome ovviamente Ero sottoesposto Con Quello smartphone Al mattino Che erano le cinque Eh sì Lo stesso orario Odierno Mi misia Riprendere Eh sì Riprendiamo Avete visto che Quel signore Al centro di Venafro Ha smesso Però Il residuo Si vede Molto bene Eh sì Chi sa perché Poi incenerisce A quest'ora Del mattino Forse per non Essere visto Ah ecco Eh sì Presumo di sì Chi sa chi è Quel signore Che ora ha smesso Perché non c'è più Nulla adesso Come fonte Come origine Del fumo Lì al centro Di Venafro Però il residuo Rimane Del fumo Non del vapore acqueo E va bene così Va bene così Va bene così E va bene così E va bene così E va bene così Ora Non posso aspettare L'alba Perché altrimenti Il filmato sarebbe Troppo lungo E quindi Interrompiamo qui E va bene Va bene Va bene così Va bene così Ripeto Per l'ennesima volta Sul centro meridione Il cielo È totalmente sereno E va bene così E va bene così E va bene così Grazie.